Eccoci qua sul mio nuovo canale, Pedro Normal. Parleremo di tante cose, principalmente di calcio, la mia squadra del cuore del Parma, in questa ripresa del campionato che sembra che sia un mistero della fede. Comunque, parleremo di questo e anche di altri temi sempre legati al mondo del calcio. Mi presento, mi chiamo Davide, ho 24 anni, vengo da Genova e tifo a Parma. Poi spiegherò il motivo, perché io tifo Parma. Comunque, in questa anteprima di video vorrei spiegare una prima bozza, cosa parleremo. Parleremo della ripresa del campionato. I pro e i contro. I pro, secondo me, sono che se uno si riprende il campionato, le medie e piccole squadre rischiano veramente di fallire. Tra cui potarsi anche mio Parma, non si sa. E poi, un'altra cosa, invece, i contro. I contro dicono, se si riprende il campionato, non è una buona cosa, soprattutto per il rispetto dei morti. Allora, io vi faccio questa domanda qua. Ma allora non si poteva neanche aprire i bar, i ristoranti, i paroghi, gli estetisti. Ci sono sempre i morti, ci sono sempre 32.000 morti. Il calcio, secondo me, deve ripartire, ma non solo per i giocatori, ma secondo me deve ripartire per dare una linfa al calcio italiano. E quello deve ripartire per i lavoratori che lavorano nel mondo del calcio. I magazzinieri, i medici, i giardinieri. Vi aspetto. Iscrivetevi tutti al mio canale. Arrivederci. Ciao.